Book 2 Il venerdì Il venerdì Il sabato Il sabato La domenica La domenica La settimana La settimana Da lunedì a domenica Da lunedì a domenica Il primo giorno è il lunedì Il secondo giorno è il martedì Il terzo giorno è il mercoledì Il quarto giorno è il giovedì Il quinto giorno è il venerdì Il quinto giorno è il venerdì. Il sesto giorno è il sabato. Il settimo giorno è la domenica. Il settimo giorno è la domenica. La settimana ha sette giorni. Noi lavoriamo solo cinque giorni.